Arezzo è pronta a festeggiare il suo santo patrono. Il 7 agosto, San Donato, sarà celebrato con i consueti riti religiosi e della tradizione popolare. San Donato fu il secondo vescovo di Arezzo, secondo la tradizione morì martire, decapitato il 7 agosto 362. Nell'arte è rappresentato in vesti vescovili e con gli attributi del drago da lui combattuto e del calice di vetro, in riferimento al miracolo avvenuto durante la celebrazione della Santa Messa. Nel momento della comunione fecero irruzione in chiesa alcuni pagani che gettarono a terra il calice frantumandolo. Donato, dopo aver pregato, raccolse i frammenti del calice e lo ricompose. Pur mancando un pezzo del fondo, il vescovo continuò a servire il vino consacrato ai fedeli senza che neppure una goccia cadesse a terra. Tante le iniziative alla vigilia il 6 di agosto. Intanto il percorso espositivo e i colori della giostra che sarà ad ingresso gratuito aperto già dalle 14 fino alle 21 e 30. Poi alle 21 e 15 in Duomo la consueta cerimonia dell'offerta dei ceri, alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della giostra del Saracino e tante altre realtà del nostro territorio. A seguire alle 23 tutti con il naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico dalla fortezza medicea a cura della fondazione Arezzo in tour.